Prosegue sul territorio comunale il percorso per rendere la città totalmente agropoli plastic free. L'amministrazione Coppola presto taglierà il nastro di una nuova casa dell'acqua in zona Fuonti, nei pressi dei campetti di calcio. Dopo le inaugurazioni in via Taverne, località Moio e presso Piazza Gallo, su lungomare San Marco, nei mesi precedenti, prossimamente anche la località Fuonti avrà il suo distributore di acqua potabile a chilometro zero, liscia e gassata, opportunatamente microfiltrata. Un sistema pratico, economico e soprattutto amico dell'ambiente che sta riscuotendo ottimi consensi in città. Prosegue dunque l'iter da parte dell'amministrazione guidata dal sindaco Adamo Coppola per incentivare i cittadini al rispetto dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse naturali, il risparmio e alla riduzione dei rifiuti, nonché alla diffusione sul territorio della cultura di valorizzazione del patrimonio idrico e di contrasto allo spreco. Si procederà in futuro ad installare altri distributori di acqua potabile a chilometro zero, liscia e gassata, opportunatamente microfiltrata, presso la località Madonna del Carmine, al porto turistico, nel centro storico e in località Mattine, in via Malagenia, nei pressi delle scuole.